E' stata ritrovata nella serata di ieri la 14enne scomparsa da Battipaglia venerdì scorso. La ragazza è stata fermata dagli agenti del commissariato di Cava dei Tirreni, i quali fatte le dovute verifiche hanno scoperto che si trattava proprio della giovane segnalata come persona scomparsa dai carabinieri della compagnia di Battipaglia. La 14enne è stata riconsegnata ai genitori poche ore dopo.